Antonella e Maria Francesca dal Ragioneria hanno dei cartelli in questo sciopero per il clima. Ragazze, cosa fate voi in classe per sensibilizzare contro il riscaldamento globale? Noi facciamo la raccolta differenziata, ci sono molte persone che portano borracce per l'acqua invece di bottigliette di plastica oppure quelli che portano una bottiglia di plastica e la riutilizzano vari giorni. In famiglia è più difficile parlare dell'argomento e sensibilizzare gli adulti? Nel mio caso sì, infatti i miei genitori forse non capiscono l'importanza di questo argomento però io ci tengo davvero tanto e questa è stata la prima manifestazione per me sul clima però ci siamo impegnate e l'abbiamo fatto veramente perché capiamo quanto sia importante.